Signor Prefetto, arriva da Grigento. Che incarico sarà questo? Sicuramente raccolto di sorpresa. È un incarico che secondo me ha un obiettivo molto preciso, che è quello di essere vicino a tutte le istituzioni, agli enti locali, alla magistratura, alle forze dell'ordine, tentare di supportare il loro sforzo su tutti i campi nell'ambito delle competenze della Prefettura e con la massima lealtà e collaborazione. Questo è il mio intento. Tra dissesto idrogeologico e fenomeno dell'immigrazione in questo territorio, mafia, non ci facciamo mancare nulla. Cosa conoscerai concretamente della Sicilia e della Grigentina? Non conosco tantissimo e sicuramente i prossimi giorni saranno per me giorni di studio e di approfondimento aiutato dalle colleghe che sicuramente mi sosterranno in questo sforzo. Sono più versato, più competente, diciamo così, in materia di immigrazione, in materia di enti locali, avendo nella mia pregressa attività avuto occasione di lavorare al Ministero su queste tematiche. Ma ovviamente quello che non conosco sono assolutamente disposto e voglio imparare. Lei si è detto pronto ad incontrare tutti e 43 i sintaci della provincia? Confermo. Nei limiti delle loro disponibilità e della loro volontà di accettare un dialogo con me e con la Prefettura che rappresento? Assolutamente sì.